ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video un'altra puntatella dedicata a voi che state guardando alle vostre collezioni di orologi e le vostre simpatiche raccolte di segnatempo e a chi più ne ha più ne metta nel senso che poi riusciamo anche a comprendere un pochino della vostra personalità di come vi muovete all'interno di questo settore e di cosa scegliete a noi ci piace vederli siamo un pochino voi e ci piace vedere i vostri orologi è inutile dirlo oggi bando alle ciance andiamo veramente veloci ci sono cinque video e li guardiamo volentieri proprio sono curioso di vederli come partecipare lo sapete video in orizzontale mi raccomando quando possibile orologio del giorno rolex explorer da 39 millimetri quadrante nero simpaticamente simpatico leggibile ecco leggibile sì ma però una cosa che mi dà fastidio fastidio perché poi i difetti tra virgolette degli orologi li si notano a portarli nel tempo no bello fare la recensione la panoramica come faccio di solito ma se un orologio non lo vivi non lo porti non lo indossi no e dopo qualche settimana mese vengono fuori però potrebbe essere io lo vedo opaco sto orologio ogni volta che lo guardo mi sembra non vedo quel quadrante nero no che sprizza felicità da tutti i poveri lo vedo un po' opaco come come quadrante come vetro non lo so è un po' strano così però nulla toglie che è un bello orologio dai guardiamo i primi video ecco fatto lo vedo lo vedo già come lo vedo già dito un fuocato barra spaziatrice diamogli una chance anzi no mi devo mettere le cuffie torniamo indietro mi devo mettere le cuffie mi devo mettere le cuffie ragazzi a volte ci si dimentica delle cose basilarie senza cuffie cosa ascolto fuoco ciao davide ciao annica della provincia di lecco annica annica ecco ora siccome è una signorina il video in verticale annica o annica annica non so vabbè ora io te lo lascio proprio perché mi sei simpatica no sei una signorina poi vediamo un po' in post produzione magari cerco di ingrandirlo di riempire lo schermo però glielo lasciamo annica glielo lasciamo il video dai guardiamo un po c'è un orologio solo vabbè mio marito ti segue sempre ora guardiamo insieme tutti i tuoi video e grazie a te mi sto facendo una cultura brava meraviglioso mondo dell'orologio brava vorrei mostrarti la mia collezione di ciò fecche e non solo dopo capirai ma volevo farti una premessa allora circa 10 15 anni fa adesso ho 36 anni ero mono brand nel senso che quando mi piaceva un marchio abbracciavo completamente la filosofia chiamiamola così del marchio e quindi compravo tutto in quel brand poi fortunatamente sono cresciuta e ho ampliato le mie scelte anche se sempre ciò fecche alert erano fino a poi ti mostrerò vorrei mostrarti la collezione di orologi che avevo quando avevo vent'anni e vorrei fartelo in un modo originale visto che questi orologi ho deciso di regalarli a mia figlia che ha tre anni per giocare così capisci aspetta che è già andata ma no allora questa è non so se tu la conosci la macchina di peppa pig ma no non la conosco allora il primo orologio che ti voglio mostrare è questo gas che ovviamente cosa si può dire se non per il fatto che è un marchio conosciuto ma il resto non ha molto anche questo quadrante in madreperla non ho idea se sia vero o finto per cui diciamo che come la maggior parte delle persone che non sono appassionate all'epoca non lo ero non posso definirmi neanche ora appassionata in realtà però mi basavo molto sull'estetica e non avendo una cultura non essendomi mai informata cioè per me l'orologio era semplicemente guardare l'ora tutti gli orologi che ho preso quando avevo vent'anni erano tutti della gas e ho deciso di regalarli a mia figlia allora Rebecca coniglio ma cos'è Rebecca coniglio si porta nel suo aereo altre due ciofeche alert ma no pensa che non gli ho neanche mai tolto la pellicola protettiva pensa quanto ci tenevo anche senza sapere che in realtà non valeva nulla ma probabilmente per l'età che avevo non aspiravo molto più in alto questo idem va bene va bene come ti dicevo poi non mi sono erudita particolarmente però ho ampliato il mio il mio panorama nel loro orologeria e quindi sempre nel mondo delle ciofeche sono rimasta con questo singolare Michael Kors ma non si può dai esteticamente mi piaceva molto eh vabbè però insomma anche su questo non saprei che cosa dire questo è l'unico che funziona perché gli altri non li uso da una vita e quindi fino ad arrivare a top allora questo è stato un regalo di mio marito ehm di Natale 2023 quindi qualche giorno fa è un quarzon è un quarzon eh ehm perché sto facendo un passo alla volta sto cercando di di avere un escalation però non si può pretendere di passare dai guest ai Michael Kors ai Longin ah no automatici ah no non si può perché sarebbe chiedere troppo vabbè eh comunque vabbè questo è un segnatempo lo definirei senza tempo nel senso che esteticamente è meraviglioso e quindi che dire io ti ringrazio ancora per l'attenzione grazie a te continua così un bacione un bacione ciao a tutti un bacione grazie per il bacione mi è piaciuto il bacione mi piace allora intanto simpatico il sistema di presentazione cioè il montaggio l'ha fatto lei le musiche ce le ha messe lei non ho fatto niente io è che voi pensate che ci metto le musiche l'ha fatto tutto lei da sola e ha fatto anche un video simpatico no poi voglio dire le Longin al Quarzo va bene dai piano piano si va su si passerà anche oltre ci sono anche orologi automatici che magari costavano meno delle Longin al Quarzo che erano validi ugualmente no però sì mi fa piacere questa tua escalation come la chiamate questa evoluzione direi io nel tempo piano piano ti auguro di buttare via tutti quegli orologiacci lì che c'hai eh simpatici simpatici ma e poi voglio dire si conferma nuovamente il concetto per il quale no ora noi tanto qua non siamo politicamente corretti e quindi diciamo un po' quello che ci passa per la testa che alle signore alle donne piacciono preferiscono gli orologi al Quarzo questa è una dimostrazione dal momento in cui hai potuto scegliere hai scelto uno al Quarzo di marca diciamo al Quarzo quindi ti capisco vabbè contentati quei brillantini contentati e contenti tutti però si può fare di meglio dai se non sai come fare vieni a casa mia ti invito e ti spiego ti faccio vedere la mia collezione di farfalle orologi e poi vedrai che esci da qua che vedi la luce al prossimo video ciao Davide sono Marco ciao Marco oggi ti mostrerò la mia collezione a circa un anno di distanza da quando ho iniziato a appassionarmi in maniera seria all'orologeria va bene un anno un anno hai detto un anno guardiamo in un anno cosa hai combinato intanto qua ci mostri come spesso accade parte della tua vita quindi libri su libri poi quelle lì io non so cosa sono quelle robe giapponesi lì io non le guardo non le seguo non so cosa siano e nei libri non riesco a leggere cosa ci sia scritto va bene comunque comunque sono libri quindi va bene così beh sei un lettore dai iniziamo con un Lanco un 11 deluxe del 1962 se non erro è un orologio che tutt'oggi ha ancora il suo fascino insomma trovo molto molto gradevole molto molto gradevole passiamo poi ad un Perseo questa è la terza serie assegnate alle ferrovie dello Stato questa ricerca è stata molto complicata perché purtroppo questo orologio veniva falsificato eh sì molto spesso ed è veramente difficile trovarlo in buone condizioni o comunque che non sia che non sia purtroppo un falso complimenti per l'Oriolus passando a qualcosa di giorni nostri promasterino Citizen Promaster insomma orologio su cui c'è veramente poco da dire molto godibile l'indosso veramente con molto piacere eh sapevo Orient bambino un po' grande la cassa devo dire però mi piace anche l'accoppiata cromatica quindi sebbene sia un po' grandicello comunque a volte lo indosso un placato con leggerezza diciamo eccolo Camasso rimanendo sempre su Orient Camasso un classico anche questo orologio godibile peccato per il bracciale ma comunque va bene mettici un altro visto il prezzo questi orologi qua così che hanno un bracciale un po' birim 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 bang è la la scusa buona per metterci su qualcos'altro no? anche un nato questo orologio qua al mare o sulla o in situazioni in una scampagnata dove ti pare a te che ti porti questo orologio qua che così è infermeabile e da tutti i giorni da battaglia come si vuol dire gli metti un bel nato se ti piacciono in alto e fa la sua porchissima figura capito proprio bello si può stare poi passiamo a quello che è diventato praticamente il mio everyday watch il mae natson 38 mm bello veramente una gran bella scoperta sia la qualità della qualità costruttiva ma la qualità dell'orologio anche percepita lo trovo veramente veramente un bello orologio bello orologio non ho recensito uno anch'io finalmente posso dire un micro brand svedese l'ho recensito poi glielo glielo ho rispedito quindi non è più mio possesso ma veramente non ho trovato punti deboli se poi piace il design non era questo era un orologio di forma mi sembra non era questo soprattutto in relazione al prezzo ma un altro orologio che condivide questa caratteristica è ecco noi ecco neutra cortina sicuramente che trovo che sia anche abbia anche una sua riconoscibilità comunque una sorta di come se un suo marchio diciamo una loro identità mi piace molto ovviamente non so se ho pronunciato correttamente il nome ecco neutra passiamo poi ad un mito dual crown ci piace questo è stato il mio primo orologio svizzero diciamo che non lo indosso più tanto frequentemente però sono sono piuttosto legato a lui un bello orologio perché no perché non lo indosso doppia corona bello abbiamo poi PRX 40 mm anche su questo abbiamo poco da dire un orologio molto conosciuto ma che devo dire mi regala comunque belle soddisfazioni quando lo indosso mi piace questi termini bellino topino breitling callisto topino questo anche questo è stato frutto di una lunga ricerca perché comunque lo volevo volevo una coppiata cromatica proprio come questa e anche anche questo non è molto facile trovarlo quindi sono sono molto soddisfatto bravo ci piace callisto sempre di brightling abbiamo anche il cronomat eh topino quindi quello con i numeri diciamo in corsivo infatti ho dato il topino stavo quasi per ritirarmi indietro perché a me il vitesse così non è che mi garba tanto con questi numeri così inclinati per fare per dare l'idea della velocità è per questo che sono inclinati diciamo così come dici in corsivo italico inclinati poi bianco insomma non è tra i miei preferiti però il topino se lo merita il brightling cronomat se lo merita sempre è un gran bello orologio veramente bello poi 39 mm come proporzioni secondo me sono veramente perfette perfettissime ed infine per chiudere questa rapida carrellata l'ultimo arrivato che bellino il Seiko Willard veramente veramente un gran bello orologio me ne sono innamorato non appena l'ho visto si deve un piacere queste forme sono veramente veramente molto soddisfatto di questo acquisto meno male sono contento per te e niente con questo si conclude si conclude il video io ti ringrazio per l'attenzione grazie a te e colgo l'occasione per fare un saluto a chiunque abbia visto il video oh un saluto a chiunque abbia visto il video è una bella trovata questa eh niente tutti i begli orologi che vanno poco sotto i 1000 euro poco sopra i 1000 euro anche i Breitling costano i Breitling costano e con l'ultimo il Seiko Willard lo apprezzo sul tuo polso però perché con la forma di cassa lì deve piacerti ti deve poco coinvolgere te addirittura sei entusiasta quindi hai azzeccato l'acquisto sicuramente al 100% a me no io sono un pochino più canonico un pochino più banale ad esempio mi piace più le forme del 62 mas quelle anse così belle tritte che ricordano un pochino più l'orologeria occidentale diciamo la verità è più giapponese questo ha più senso di esistere questo rispetto a quello che mi piace a me e quindi è fatto bene a Pedro bravo dai sei promosso tutti i begli orologi prossimo ciao david ciao un saluto a te david a tutti gli utenti del canale sono michele da todi in umbria ti presento la mia raccolta di orologi eh bravo voglio partire subito con i quarzoni eh questo che si vede inquadrato è un kinzle che rimanda molto il quadrante agli orologi della seconda guerra mondiale della luftwaffen l'ho comprato a fine anni 90 e quando l'ho presi l'orologiaglio mi disse che era buono per andare a zappare ah 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 allora tu ti hai detto l'orologiaglio passiamo oltre con questo quarzone ma dai della luminox ma perché è un diver ma serve produzione svizzera con indici altrizio e riferimenti altrizio questa ditta si vanta di aver equipaggiato negli anni 90 alcuni si al team tant'è ma cosa che nel retro vediamo lo stemma dei Navy Seals io rimango sempre cioè non lo so quando certi marchi fanno riferimenti io non lo so può essere anche vero per l'amore del cielo non mi posso permettere non ho studiato ecco il cane mi ha mangiato gli appunti quindi non ho studiato li mettiamola così non lo so sono all'oscuro però ste cose i Navy Seals cioè per usare un marchio è logico che bisogna avere la licenza quindi in qualche modo però la licenza puoi anche pagare comprare per utilizzarla la metto sugli orologi poi quello che ci inventi intorno non lo so se poi può essere vero i Navy Seals poi bisogna vedere se anche sto qua è veramente cioè io presumo che tu ti sia informato va bene sarai i Navy Seals io fatico sempre a boccare a queste cose qua no però poi dai quell'altro è per zappare sto qua sia lì Lumino io non ho mai sentito Lumino poi faccio anche la figura magari da scemo ma altro quarzone e vai tanto ormai questa volta un Hamilton Crono un Crono al quarzo però grosso sbaglio di gioventù perché? se l'avessi comprato automatico ma va avevo fatto un affare sarebbe stato un po' bellino dai eh però tirlo così siamo avanti ha un senso anche al quarzo dai dai altro Hamilton quarzone quarzo perché tu di quarzo? altro sbaglio di gioventù ma tutti errori qua una zecchiuna boh poi eh altro truffatore truffatore questa volta un Citizen un Citizen un Diver un Diver tutto in titanio fortuna non l'ho comprato questo me l'hanno regalato eh meno male poi è imbroglione passiamo a un meccanico imbroglio imbroglio questo è un carica manuale carino è un Cronography Swiss era di mio nonno e ci sono molto legato ah eh beh allora purtroppo non funziona e lo devo far revisionare comunque è molto bello questo orologio molto bello molto bello altro orologino un Sego automatico vintage un Sego 5 anche questo non funziona non funziona per mia colpa appena l'ho preso l'ho fatto cadere ho rotto il plexi e scollato tutto dentro purtroppo lo devo far revisionare eh purtroppo oh Quarzonio non funzionano ragazzi altro Sego Intage funziona con questo quadrante particolare bello quasi nuovo ma funziona perché io vedo che non parte scuoti non si vede non si sa altro Sego 5 automatico anche questo fine anni 90 ma non gira la sfera delle seconde non ho cambiato il cinturino mi piaceva più questo blu abbinato al quadrante bianco beh ma di solito i Sego hanno il Magic Lever che appena lo prendi in mano come diceva Cicciolina no? fai due mosse e si muove inizia a muoversi la sfera dei secondi qua non c'è un orologio che gli si muova la sfera dei secondi tra quelli che non funzionano quelli che non gli si muove la sfera dei secondi a me vi vengono dei dubbi ma saranno mica imbalsamati questi orologi sono dei totem messi lì con dentro l'ovatta cioè uno che funzioni poi altro Sego questa volta Sego D'Arthol ultima referenza fermo il cinturino con questo va bene orologio iconico di Sego niente da dire no però non ci piace o non ti piace spiega tu prima giustamente prima altro Sego Sego D'Arthol questa volta in edizione Paddy Paddy ci piace così Pepsi ci piace Pepsi un orologio che mi ha sempre attratto con questa gamma ai colori ma si si cromatismi al polso fa la sua figura fa il suo fa il suo un altro Sego altro orologino questa volta uno skin diver Volbrock della Volbrock questo monta un movimento Citizen qua gira la sfera 8315 secondo loro ha hackerato per 60 ore di riserva di carica ho montato questo Tropic Rally sta bene bello molto interessante sembra un po' grassuto original CQ però vabbè dai altro orologino skin diver war timer Douglas questa volta Douglas mi hai sentito che praticamente è la ditta gemella di Volbrock infatti hanno la stessa gas lo stesso movimento non li conosco è una specie di GMT uno skin diver GMT con vedo in plexi e dov'è la sfera GMT non c'è l'ho trovato molto carino vabbè e ci ho abbinato questo cinturino così un cinturino bracciale va bene dai chicco di seme ultimo orologio questo diver anche te un mae un mae un adson MK4 che monta un sellito sv200 vi siete messi d'accordo lo trovo fantastico è ben rifinito simpatico dai dal vivo rende molto molto più va bene si vede che bello il bracciale è un po' anonimo però le viti nel bracciale bravo ecco qua con questo mae ho finito la mia collezione orologi meno male ti ringrazio david per la possibilità di pubblicare la mia raccolta un saluto a tutti gli amici del canale e viva la susina e viva la susina l'ha detto proprio di corsa perché va paura e viva la susina un coppettone della moglie va bene dai fai il leone quando non ci sono no vabbè begli orologi il mae è lì la seconda volta nella giornata che lo vediamo vuol dire che li vendono vanno bene tutti i secchini cinque che c'avevi secco che non funzionavano quarzoni insomma sei iniziato un pochino zoppicando per poi finire diciamo bene gli ultimi secco sono quelli che mi piacciono di più anche sto mai in qua volendo però io tra un micro brand magari un secco preferirei un secco a grandi linee poi ce l'ho anch'io gli orologi di micro brand a cui tengo particolarmente calamai su tutti però però va bene dai si è promosso prossimo video viva la susina ha detto prossimo video ciao Davide sono Fabrizio da Roma e ti voglio fare complimenti per il canale grazie e adesso guardiamo qua che abbiamo le action figures come si chiamano così miniature i pupazzi come le vuoi chiamare allora guardiamo se riesco a riconoscerli perché è difficile abbiamo allora al centro Goldrake con la barda spaziale e il maglio perforante quello non si sbaglia poi invece quello con alla mia sinistra è quello con è Mazinga Z no è Mazinga è Mazinga quello con le con le antenne dritte è Mazinga quello con le antenne che vanno su è Mazinga Z secondo me l'ho azzeccata così secondo me è così poi potrei confondere tra due Mazinga comunque va bene così adesso rapidamente ti farò vedere l'orologico accumulato col tempo vai iniziamo con questo 6x5 anche te con 6x5 beh è bello sobrio elegante molto bello noi abbiamo un altro 6x5 che devo dire non mi fa impazzire e data l'età faccio anche fatica a leggere l'ora non ho il massimo della leggibilità eh sì biancotto visto e rivisto Citizen Promaster ma che quanti hai? che mettiamo nel verso giusto vabbè Promaster dai bello eccolo qua simpatico sono dei fortunati ad aver preso quello col fermo macchina e poi questi che ti farò vedere adesso sono quelli diciamo un po' più consapevoli che ho proprio scelto anche in base alle indicazioni reperite sul tuo canale quindi abbiamo a rovescio e il Tissot PRX eh simpatico quello qua abbiamo visto che prima avendo un polso molto fino è quello da 35 mm ah 35 bravo molto bello ma anche questo da 35 oh che bello questo qua fuori produzione possiamo dire che fa il suo fa il suo eh aggogliati il Conquest quelli è quello da 35 con il vetro in plexiglass che è uscito in produzione da poco e la famiglia Conquest la sta spingendo Longin perché ne ha fatti uscire anche ultimamente da 38 da 40 con la riserva di carica con i piccoli secondi la marea è un po' la famiglia storica no dal 1954 è stata la prima prima del 1954 non esistevano famiglie modelli nei Longin li chiamavi per calibro nel 1954 il Conquest è stata la prima famiglia ad avere un nome sul quadrante 54 poi nel 57 sono usciti i flagship anche loro che ammiraglia vuol dire flagship della Longin insomma da lì in poi nomi su nomi e questo qua che devo dire ho apprezzato di più quando ho levato il bracciale e messo il cinturino ah lo preferisco così bravo è simpatico questo orologio poi prima di omaggiare gli orologi che mi ha lasciato il nonno ah questo qua è tuo nonno per fare una piccola premessa mio nonno era un appassionato di tecnologia nonostante facesse il funzionale di pulizia oh e modificava gli orologi gli orologi da tavolo ci inseriva un chip che riconosceva il segnale radio della RAI e poteva rimettere l'ora aggiustando la lancetta dei secondi praticamente un precursore del radiocontrollato ah e quindi anche io in una fase della mia collezione quindi te ti sei preso questo radiocontrollato della Citizen che è un imbroglion è un imbroglion perché il tuo nonno aveva creato un orologio imbroglion fatto in casa come si può dire perché ci aveva messo dentro non ho capito come funziona come funzionava come funziona però sarebbe anche interessante riuscire a capire cioè aveva modificato un orologio da tavolo con un microchip che prendeva il segnale della RAI cioè detta così orologio da tavolo cosa? meccanico? impossibile un orologio da tavolo digitale vabbè non lo so comunque te ti sei preso l'imbroglion di turno bravo bravo sono caduto nell'acquisto dei famosi orologi che copiano questo bravo e devo dire quest'altro Citizen titanio effettivamente radiocontrollato forse è quello più iconico di questa categoria e Pilot imbroglion adesso passando agli orologi che ha lasciato il manno speriamo abbiamo questo si master mi full gold top col quadrante ristampato probabilmente anche con la lancetta dei secondi sostituita alla grande ha una serie di problemi e piano piano lo farò revisionare e sistemare ma che il dettaglio lì è sminchiato cosa c'è? poi abbiamo un iwc con calibro 89 anche questo ha il quadrante ristampato però mi hanno detto che è un quadrante che si può ripristinare perché è indelebile mi pare che si chiami così anzi se sai qualche cosa di più su la differenza tra quelli ristampati normali e quelli indelebili mi farebbe piacere avere la tua non la più pallida idea mi spiace questo qua la cassa sta molto bene ma ovviamente essendo ristampato è un peccato diciamo da un punto di vista di valore commerciale sì ma non è solo valore commerciale ecco non è il valore commerciale quando uno parla di quadrante ristampato o non ristampato è proprio il fatto di avere un oggetto che non che non è originale cioè quello che può dare un certo fastidio cioè uno li colleziona questi orologi perché rappresentano il passato da come sono arrivati ai giorni nostri se non lo rappresentano più il passato perde un pochino il senso dell'orologio vintage a parer mio poi chissà magari tra i miei lungini chissà quanti ce l'ho col quadrante ristampato non lo so occhio non vede cuore non duole però più tanto quello che invece mi piace di più a rovescia è questo zenith anch'esso col quadrante ristampato gonfia tutti ristampati però questo effettivamente le lancette sono originali contrariamente a quanto dicano quando sono diverse quelle cronometriche da quelle dei piccoli secondi ho visto che è un quadrante ristampato perché l'originale presentava anche l'indicatore rosso al centro un po' più piccolo nel quadrante e l'ho fatto revisionare lucidare e sono molto soddisfatto soddisfatto bravo adoro anche questo ecco qua questo è tutto volevo sapere cosa ne pensi della mia collezione volevo ringraziarti per tutto quello che fai per la community salutare gli amici del canale love eccoli lì i guanti stranissimi con le z non so proprio cosa siano allora belli gli orologi di ronero non sono belli perché tutti quei quadrante ristampato nella sua vita cosa ha fatto ha fatto altro che ristampare i quadranti tutti e tre d'oro massiccio belli e per il resto non mi ricordo nemmeno gli orologi che avevi scusa quindi devo riguardare ah i longhin simpatici i longhin poi i due niente i longhin idroconquest che è bello simpaticissimo bla 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 e i due quarzoni radiocontrollati perché il nono ci ha messo il chip e allora anche i radiocontrollati vabbè dai fra un po' non se ne salva uno no scherzo i vinti sono belli ma vanno tutti sistemati hanno tutti qualcosa che non va mi spiace mi spiace comunque grazie per il video grazie per i mazinga e passiamo oltre prossimo ciao davide sono francesco da trento francesco e volevo condividere con te con gli iscritti al canale quella che è la mia piccolissima collezione di orologi che per la sua interezza prende vita in questo 2023 dove mi sono avvicinato a questo mondo e niente sono rimasto abbastanza folgorato tutto nel 23 è fatto e parto subito con il primo orologio che mi sono comprato penso a inizio anno bulova marine star 100 metri cronografo per quel che può funzionare insomma non non l'ho mai usato più di tanto anche un diametro cassa troppo troppo importante qualcosa che ho comprato in un momento in cui il mio interesse probabilmente si limitava a quella che era la parte estetica per cui un orologio vistoso ma che a livello tecnico ecco non dà assolutamente niente è un quarzoon delle batterie ne abbiamo già parlato riparlato quindi ecco finisce qui carino simpatico vai oltre no? tutto qua poi passiamo a quello che è sostanzialmente un ricordo ovvero questo Gucci placato oro dovrebbe essere all'incirca dei primi anni 90 mamma mia poco prima della mia nascita un regalo che mia madre faceva a mio padre è da uomo l'ho recuperato dal suo cassetto chiaramente cercando di salvare il salvabile ma diciamo che mio padre non è stato molto clemente con questo orologio come si vede la placatura poi va a rovinarsi e lentamente ci abbandona come c'è la batteria che c'è dentro è riportata la scritta swiss made non c'è meglio non ho grosse informazioni su questo orologio ma che formazione vuoi? non mi interessa neanche più di tanto è un qualcosa di che è lì puramente a livello affettivo e niente ma non penso che e va avanti neanche a mio padre a questo punto perché comunque hanno divorziato vabbè questa è un'altra storia passiamo a quello che ho preso io quest'anno diciamo nella seconda parte dell'anno dove la mia cultura è leggermente aumentata e quindi Tagoyer toppone cioè fammi capire questo qua è il primo anno in cui ti sei appassionato il 2023 e zacchete il primo orologio che hai scelto è il Tagoyer Acquarezza questo qua è uno dei miei preferiti questo qua da 40 mm con la mamma mia con la data ore c'era anche il mio amico Piero mi piace mi piace bravo bravo c'è anche soldi da spendere perché insomma primo uno dice inizia piano piano mi compro qualche orologino boom l'acqua racer che insomma il suo prezzettino ce l'ha acqua racer 200 metri bello guarda lì automatico chiaramente calibro 5 6 litri 7200 è quello che io uso un po' come daily watch bravo penso che si vede è quello che indosso di più ma sì qualche piccolo graffietto qualche segno di usura dato dal dal fatto che lo indosso veramente veramente tanto mi piace il il quadrante che ha questo blu degradé che va verso il nero sull'esterno per il resto un orologio che va bene con tutto 40 mm proporzionato con il mio polso mi piace anche a me mi piace bravo qualcosa di un po' più formale ed elegante è stato ed è questo Omega cavolo ma l'hai speso il soldi quindi anche qui calibro automatico scappamento coassiale certificato COSC a differenza di del tagoyer precedente calibro 2500 di Omega e niente quadrante argentato numeri romani che so che non ti piacciono si vabbè ma ci sta ci sta li troviamo solamente ore 12 6 e 9 per il resto abbiamo degli indici argentati anch'essi sono veramente belli mi piace una bella luce bracciale chicchi di riso no 39 mm e mezzo di diametro cassa va bene pulito essenziale sobrio e l'ultimo arrivato cos'è questo che è il mio regalo di natale che mi sono fatto gonfia tutto black bay 41 mm ah 41 ah sì sì classico proprio tutto l'ho voluto stare sul più classico possibile per quanto riguarda questo marchio quindi per me il ghiera rossa bravo è proprio una rappresentazione iconica anche per me quadrante nero bracciale che mi piace davvero tanto con questi cinque elementi si jubili possiamo definirlo così simili simili jubili caffonate ah vabbè e questa è la sua ultima declinazione quindi metas esce con calibro mt5602u certificato metas calibro riportato anche sul fondello di manifattura da tudor certo che nissi come riporta la scritta poi nel basso sotto la la resistenza della profondità master cronometer quindi ecco diciamo un ottimo un ottimo rolosio qualità prezzo credo un calibro di manifattura di questo livello difficile da trovare e quindi più il lato meccanico che mi ha catturato e poi chiaramente si fa anche la parte estetica questo è fresco fresco appena arrivato e niente sono sono molto contento bravo io ho terminato bravo grazie per lo spazio concesso e un saluto a tutti un salutone un salutone si il tudor black bay ghiera rossa qua da 41 è quello che mi piace più della linea dei black bay diciamo così è uno di quelli che probabilmente io prenderei al posto del 58 probabilmente dico non esagerare probabilmente perché non l'ho mai provato al polso devo provarlo però secondo me 41 è un po' più adatto del 39 per il black bay per gli orologi con ghiera un anno nel tutto del 2023 ti sei appassionato hai iniziato e ti sei preso un tagoy all'acqua rissera un omega devil e un tudor black bay in un anno a teologi costosi direi che hai fatto un grande l'inizio col botto hai fatto cosa ti posso dire non esagerare lo saprai da solo di centellinare sopra le tue risorse economiche in modo da non andare a vivere sotto i ponti lo saprai da solo però sai come uno inizia si fa prendere dall'entusiasmo sperpera sperpera però insomma hai preso tre orologi sui quali cioè non ci vedo nemmeno tutto questo hype ok hai preso tre orologi che sono fuori dal parlare comune se tu avessi preso il black bay uno speedmaster per dire nel tagoy ero un monaco sono quei tre orologi di cui tutti parlano e che tutti vedono come rappresentativi per il marchio voglio quelli lì voglio quelli lì invece te sei andato su tre modelli completamente fuori te sei scelti evidentemente chiaramente per il tuo gusto personale hai fatto bene una cosa sulla quale non sono d'accordo hai scelto il tutto il black bay per la meccanica per i contenuti meccanici ecco io un orologio solamente per i contenuti meccanici non lo sceglierei mai piuttosto faccio il contrario scelgo scelgo un orologio che mi piace anche se è un calibro di fornitura questo faccio il ragionamento cioè l'orologio poi va indossato lo devi guardare lo devi toccare lo devi assaggiare non è che poi perché c'è un bel calibro è mai brutto e vabbè però c'è un bel calibro no non prega niente del calibro bello deve essere bello l'orologio bello ti devi piacere tanto quello mi è lasciato un po' perplesso per i contenuti ma insomma va bene a parte che io lo faccio però in vintage per decade differente possibilmente con un calibro differente quindi vado a vedere anche la meccanica che ha di forma leggermente cioè perché faccio una collezione è diverso boh ragazzi mi sembra di aver detto tutto non è che possiamo stare qua ore e ore e ore cioè ci starei a ore e ore e ore con voi ma non è che si può stare a ore e ore e ore capito quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video il video il presentatore l'orologio del giorno e gli orologi presentati il tutto in una fate una media col presentatore sopra la media diciamo la verità quindi vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.